Ce l'ho fatta, ho la cica, la cica, i capelli, i capelli, devo fare... nooo, il rossetto Allora, ho la cica, la cica, i capelli, i capelli, ciao Dunque, oggi mi sono pure rifatte i capelli, nel senso che mi sono rifonati un'altra volta Per vedere, ora cascherò al telefono, così, è di Filippo, Filippo è qui dietro, cioè Potrebbe venire fuori una disgrazia, in visione diretta Così si vede Aline, che è spavarazzata nel letto E siccome fanno cose loro, cioè nel senso, magari potrebbero fare pure cose un po' belle da vedessi, no? E allora è meglio se... Ok, allora, così si vedrà Filippo Vabbè, cercherò di non farli vedere, ciao bellissime Allora, mi sono sistemati a capelli, con le mie papale Perché sono troppo fighe, però se mi scelgo capelli, tipo così Cioè, si viene bellino, ma ce l'ho ancora dopo partiolare E quindi ho detto, vabbò, che l'ho lavato ieri, ma sono già sporchi Perché a me i capelli, a forza di toccarli, io li leggo in continuazione Dunque, siccome ho fatto, di anzi, un video dove, ve lo dico di già, nel vlogmas Il get ready, ma è venuto un trucco di merda Perché ero partita con un trucco tutto elaboratissimo Cioè, da serata, da gran galà Invece può far cagare E allora, per cercare di sfruttare, comunque, questo benedetto trucco Ho detto, facciamo un... Un trucco Facciamo un video Che video faccio? Vi volevo mostrare i prodotti che mi avete inviato Ma non lo posso fare perché non c'è la luce Anche se il cellulare di Filippo registra bene Quindi ho detto, cosa fare? I prodotti terminati Sulle labbra c'ho Anarchy Che è la cosa più bella che esista sulla faccia della Terra E vi faccio vedere qui dentro Nella busta di Ellie Whaley Ciao a tutti i miei prodottini Quindi ve la metto qui Aspettate Mi ridò un pochino di Jeffree Star Che secondo me se ne è andato Giriamola perché ti faccio il nero E' più bellina la cosa Allora, ce la posso fare Calma Ciao Ok No, almeno non si vede Filippo E mi voglio ridare lo Skin Frost Perché me l'ero già dato Perché mi è stato detto Guarda, dalla mia amica Mirna Mi ha detto Guarda, Cami, potrebbe essere... E' molto scuro No, potrebbe essere E' scurissimo Però Invece Naturalmente ora non trovo il pennello Devo perdere il più tempo possibile E quindi invece io devo riuscire a darmelo lo stesso E ancora le lampade non le ho fatte E ancora lo che ha appuntasca Vabbè, le capelli che fanno pietà E' vero che è un po' scurino Ma noi non ce ne frega niente Noi ce lo diamo lo stesso A noi non interessa niente Anche se si... Sono diventata arancione Tipo Quegli animaletti di Oompa Loompa Vai Vabbè Cioè è molto Sono molto arancione Ma comunque non mi interessa Uno Skin Frost si può diventare pure arancione Dunque cominciamo Perché sono già Quattro minuti di porcate Quindi Allora Qui è anche già caldo la situazione Perché ho un pile addosso Random Allora Uno Due Allora Filippo sveglia Lingia dorme Da un pezzo Due Per ora due Allora Dischetti di cotone Di solito non sto a dirvi grandi cose Grandi cose Di dischetti di cotone Invece questa volta ho da dirveli Vediamo se me lo avvicina Oh Addirittura fa pure lo zoom Non ce credo Vai Perfetto Questi qui della nuvola O dei dischetti della conad Mi sembra di nuovo Perché comunque i dischetti della conad Ne ho presi mille Andavano benissimo Questi qui Che sono nuvola serie 100 dischetti Fanno pietà Perché fatti conto Te vai a prendere Io non so dove è il pallino Da guardare qua Te vai a prendere il dischetto Da darti sul viso Per struccarti Cosa succede? Ti viene via Invece di tutto il dischetto Ti viene via Una parte è il dischetto E l'altra parte Ti rimane qui dentro Tutte le sante volte Su 100 dischetti 100 volte succede questo Mentre quelli che ci sono Amicarmo è una bestia Perché sto leggermente Più alti Una figata Questi sono pessimi Veramente sarebbe da denunciare Colui che ha fatto un dischetto Così Allora Questa qui Floro Questa è la maschera Biomasque 100% Vegetale Astringente Mi dovevo dare Un po' di colore Sotto l'occhio Perché se ne è un po' Dato Astringente Allora Io ho Purificante Astringente Sebo più liberante Queste maschere Io ho Tipo Due anni Una balla di tempo E Ultimamente Sto cercando di farle Per Smaltirle Non amo queste maschere Fatte a viso Io Perché mi danno fastidio A me mi guardano le maschere Che si mettano sul viso Normali E vecchio Stile Old school Però L'altra che ho fatto E poi la vedrete Delle Teodows È molto buona Questa Io non so Se è un problema Che era vecchia Era completamente asciutta Quindi Poteva essere Sebo Sebo sto cazzo Requilibrante Ceppa di minchia Tutto fatto Appunto Di queste cose qui A parte il resto Allora Fria Struccanti Buonissime Perché Io ultimamente Sono molto Molto Bighellona Non riesco Spesso e volentieri Sempre a struccarmi Cosa che invece Deve Succedere Vi dovete Sempre Sempre Struccare Questa qui È fatta Nido d'ape Costano una miseria Sono per l'appunto Anche Con gli animaletti Quindi non testate Mi garbano tantissimo E devo dire Che struccano Anche molto bene Vabbè Queste sono Le strisce Depilzero Che sono Le uniche strisce Che io veramente Adoro Ne ho prese Di altri tipi Ma comunque Se non sono Le Depilzero Queste qui Che dovrebbero Essere Con olio Di argambiologio Io se non C'è queste Non I miei Tronchi di albero Non le tolgo Perché io nelle gambe Ora Sto migliorando Perché ultimamente Mi sto a fare La ceretta Ma io ho sempre Fatto la lametta Quindi ho dei tronchi Nelle gambe Delle barbe Così Dei peli Che se la ceretta Non è buona Come questa Non mi levano Niente Allora Questi sono I famosi Fanghi Della Venus Che mi guarda Da Una vita Sa che io L'ho sempre Utilizzato Sono sempre Gli stessi Io continuo a guardare Il quadratino Arancione Rosso Perché Sono sempre Gli stessi 70 centesimi A bustina Fanno tantissimo A padella E sono gli unici Fanghi Su cui Ho visto Il risultato C'è L'Ultek L'iporiducente Le trovate La Hop Le trovate La Conad Ve lo trovo Dappertutto E poi c'è La maschera Che vi dicevo Allora Questa è Delle Etudeus La maschera Alle perle Perle Extratt Etudeus Allora Questa maschera Io ce l'ho Da un fottio Di tempo Anche questa Sarà due Tre anni Però Un compenso C'era Tutto il prodotto Dentro Non c'era Non è stata Come quell'altra Che si è Prosciugata Questa c'era Un sacco Di siero E era Un sacco Figa Perché comunque Il siero Che mi sono adattato Cioè nel viso Poi io mi cifo Il massaggio Senti Questa è l'incherrussa Ora io Dovete portare Pazienza Pensate io La notte Come faccio a dormire Poi la creatura E poi mi viene detto Che ho i peschi Non me lo dice nessuno Lo dico da me Però Hai a provare? Io non vorrei Fili Ecco dorme anche lui No Questa luce Vì ma è bianca Vero? Secondo me è bianca Questa luce E invece secondo me Non è del tutto Comunque si sono addormentati Praticamente tutte e due Con io che urlo E sbraito E va bene lo stesso Allora E' un cielo Non lo so Comunque le quattro E qualcosa Avrò già finito Quindi questa è molto buona E mi è piaciuta un sacco Random Che ci abbiamo Allora Bionzen Zen 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 Emotion Un bagno doccia Al tè rosso E Yuzzi Non si sa che cazzo Possa esserlo Yuzzi Yuzzi Fruzzi Allora L'odore è buonissimo E' un bagno schiuma Normalissimo L'ha comprata la mia mamma Quindi non so Quanto abbia speso Non so niente Però è un bagno schiuma Normalissimo Soluzione salina Per le lenti Questo è Neudrorobers Antibatterico Con tè verde Questo è quello Che uso per le mani Buono A me questo piace Un sacco Perché innanzitutto Mi piace Questo odore al tè verde E poi Devo dire Che Io ho saponi Per le mani Non è che ne faccio Non pazzi Perché Avendoci le mani secche Se il sapone Non mi sconfinfera Non mi viene le mani Se che mi devo Stare a lavare A cosa le mani Tutto il giorno 20 volte Al minuto E invece questo Me le rende abbastanza morbide Allora Un semplicissimo Gatto pardo Sì Solvente Oggi a questo punto Se non ci fosse Scritto Quello che è Io non lo saprei Neanche dire Solvente per unghie Normalissimo Ho preso la coppa Un normalissimo Solvente Ah Veniamo Lui Allora Questo lo conoscete L'ho usato Un sacco di volte È la venida Latte detergente Con estratto Ricomilla Biologico Glicerino Olio di mandorle E riso Questo è quel prodotto Che si compra Se non mi sbaglio Alpenny Cioè Se è tuffato No Tipo Olimpia Non mi arrabbio Perché oggi Ho le papale in testa E quindi Quindi Questo qui Ho anche adesso L'altro da usare Quello Bifasico Però a me Questa linea Piace Mi ci sono sempre Trovata bene Ve ne ho parlato Mille volte Quindi non sto A rivenarvela Allora Questa qui È una maschera Della Kiko E la nera Che tipo Avrà anche questa Due anni Non l'avevo finita L'ho finita adesso E ho un'altra maschera Sempre presa Da internet Nera Che però Tutte le maschere Ti fanno bene Sì ok Nel senso Specialmente a me Io non ho Grossi problemi Di pelle Quindi devo dire Che non sento poi Tutta sta Gran differenza Quando me le levo Questa mi ha sconvolto Perché era vecchia Io non mi ricordavo Di quello Che potesse fare E vi posso garantire Che una volta tolta Ho sentito La pelle Non morbida Di più Cioè Stramorbidissima E oltretutto Sentivi proprio Che aveva avuto Effetto Sulla tua pelle Ora se sia stato Un effetto purificante Riequilibrante Io questo Non lo so So soltanto Che Io levata questa C'avevo la pelle Che era Tutta un'altra cosa Ora ne ho un po' Da finire Quindi non mi metterei mai Allora Questo è Guccino Allora Questo è Dell'estate Io e Aline Si era preso il profumo Perché l'abbiamo trovata Al caddy Con uno sconto Del Non so quanto Per cento Tipo questo qui Perché naturalmente Non è che c'erano tutti Non erano tutti scontati Cioè Questo qui Io non l'avevo neanche mai sentito E È un 30 ml Se non mi sbaglio Vabbè Un 30 ml È pagato 36 euro Perché ve l'ho lasciato Perché Questo profumo È la fine del mondo Io non sono riuscita ancora A trovare qualcosa Che compari Narciso Mi Compa Si mi faccia Sia meglio Di Narciso Invece questo Devo dire che Non gli fa le scarpe Però Per il prezzo Che ha Visto che Narciso Ne costa 55 Allora Sono 30 ml Non lo leggerete mai E 36 euro È veramente Belluna Belluna Belluccia Ha anche la confezione Ed è un profumo Perfumo stradolce Mi piace Assai Ho cercato Di terminarlo Fino all'ultima goccia Ma infatti Non c'è qui Niente Vorrei tenere La scatolina E infatti La terrò Perché magari Il giorno che avrò La mia Make up table Potrò metterlo Sopra Se un giorno Ce l'avrò Poi Crema mani Al burro Di Garide Questa è Di bottega verde Una crema mani Senza infame E senza lode Di solito Al burro di carità Mi piacciono tantissimo Invece Questa è una crema mani Anche abbastanza Burrosa Ma che poi diventa Pure antipatica Perché Vi appiccica Anche un po' Le mani Non me la ricordo Con tanto Con tanta gioia Creme mani Perché io le sto Praticamente Mangiando Le creme mani Perché In questo periodo La mia pelle O mio Oddio c'è una bottiglia Dell'acqua Sto morendo Perché mi babbo Ho già fatto La pasta Salatissima Io ho una sete Che vi giuro Che mi bevrei Il maniero Questo lato Allora Questa è Mediterranea Body Idra Clema 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 Ciavo facca Mi forza Crema mani Fluida Protettiva Protettiva E limitiva Allora Non è niente Di che Questa crema È vecchissima Quindi ce n'era Poca Non è che L'ho sgonfiata Tutta Però Ecco Anche questa Non è che Mi sia rimasta Nel cuore Altrimenti Questa invece Crema mani Della Cleanians Idratante Protettiva Con passiflora E mandorla Questa Se non mi sbaglio La trovai A suo tempo Anche qui Si parla di anni In un giornalino Questa crema Devo dire Che invece Mi è rimasta Nel cuore Perché sono Di quelle creme Che ti Ammorbidiscano Allora Avendo le Crame Oddio Non parlo Non ce la posso Fare Ma perché Avendo le Mani parecchio Secche Ultimamente Qualsiasi Tipo di crema A parte Quelle Della Della Andy Porca Troia Ve l'ho anche Sponsorizzate Ve le M'hanno mandato Da Octoli Vabbè Quelle Fighissime Andy Vabbè Quelle Quelle che mi Garba Una bestia E invece Ci sono Delle creme Mani Che te la dai Dopo 5 minuti Te la devi Da Perché So Di Troiai Questa invece È molto buona Perché A parte Che ha L'odore Classico Di crema Però Nutre Le mani Quindi Una volta Che te la sei Data Non c'è bisogno Dopo 10 minuti Di ridassela Le mani La assorbono Molto bene Senza Impomatarle Troppo E A me Mi carba Bessi Amunque Tutte queste Piccole cremette Le tengo In bolsa Perché Più che altro Me le do Quando sono In giro I nostri Pore Clean up Vi devo far vedere Penso si vedrà pure Con il cellulare Di Filippo Vediamo Se riesco Allora Se vedete Con il cellulare Di Filippo Secondo me Riuscirei a farvi pure Le foto Del trucco Da vicino Allora Avevo Forse qui ce la faccio Dei punti neri Non indifferenti E invece Fra maschere E Sto facendo Parecchie parecchie Maschere E di conseguenza I miei punti neri Insieme a questi qui Che la sera faccio Devo dire Che hanno migliorato Moltissimo La situazione Si devono vedere I pompon Assolutamente Quindi vabbè Ve l'ho promossi Migliaia di volte Lo sapete Non vivo senza Poi Tutte mi chiedete Perché ho i denti Così bianchi Mentadent 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 All'interno Ci può essere Anche L'acido muriatico Vi rendono I denti Bianchissimi Più io ci metto Lo stick Fatevi conto Che i miei denti Sembrano di porcellano Poi naturalmente Dovete sapere Che nei video I denti Sembrano ancora Di più Bianchi Ok Perché Nella realtà Si sono bianchi Ma molto meno Che in video Comunque Devo dire Che questi qui Sono dei Dentifrici Sono davvero 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 validi Costano Perché comunque Un tubetto così Da 75 ml Vi costa dalle 2 euro Alle 3 euro Però fanno il loro lavoro Prima io usavo Gli sbiancanti Avevo bisogno Di usare anche I sensitive Perché mi si sciupava Lo smalto Con questi invece Devo dire Che a me Non dà fastidio Poi certo Se avete denti Parecchio sensibili Non lo consiglio A quel punto Vi consiglio La pennetta Allora Questo qui È uno spray Per capelli Anche questo Ho usato Oramai Da anni Cioè Queste vecchie È finito adesso Ma erano anni E lo stavo usando C'erano le orecchi rossi Perché sta facendo Un caldo Qui dentro Boione Poi come al solito C'ho la luce puntata C'è i riscaldamenti Accesi E io sto Morendo Poi questa piccola Luce Non sembra La luce È qui davanti Non sembra Ma Scalda tantissimo Quindi Allora Dunque Trucco bruttino Però nel complesso Ci piace Allora vediamo se Mi faccio vedere In tutta la mia figaggine Allora Mi sa che c'ho lo zoom Allora Questo è Supreme Repair Trattamento Repair Più gloss Della testa nera Capelli secchi E danneggiati Allora Di questa linea Non so se vi ricordavate Che io avevo lo shampoo E il balsamo Neri Della testa nera Con la cheratina Sono favolosi Vi rinvidiscano i capelli Allora Fatemi sapere Se vi interessa Io trovo diversi prodotti Dei capelli buoni Che mi stanno Veramente facendo rinascere I capelli Ultimamente Questo Era uno spray Da dare dopo A essersi lavati I capelli Le rinviviva Le rinvigoriva E questa cosa Del gloss Ve li Ve li illuminava Insomma Praticamente diventavano Più luminosi E devo dire Che il suo lavoro Lo faceva Parecchio Parecchio bene Anche perché Come quantità Ce ne voleva davvero poca Allora Siamo quasi alla fine Allora Abbiamo il nostro Burro cacao Il labello Dice che comunque Non siano tanto buoni Ho preso Un Io ho Dei Dei lip balm Anche vecchio Vecchia data Che comunque Ultimamente sto utilizzando Santissimo Perché anche lì Specialmente Qui dalle parti Vedete Queste rie Io ho qui Dalle parti Parecchio Crettato Questo è buono Ha un ottimo odore Più che altro Mamma È quello Con l'odore Meraviglioso Emoliente Ma non dice Questo è favore Io lo adoro Allora Ho finito Le goccioline Per il viso Queste sono Della Inca Rose Maxi Bronze Devo dire che sono Ottimi per il viso Mi sono durate Dall'estate Adesso Due gocce Massimo E mi facevano Un bel viso colorato L'ho presa Dal caddy E se non mi sbaglio Non costano poco Sulle 30 euro 20 20 20 20 Non me lo ricordo Ma è durato Parecchio Lo ricomprerei Tranquillamente Anzi Volevo andare A ricomprarlo Questo qui Invece È Un prodotto Che anche questo Ho cominciato ad usare D'estate Come sapete Io adoro Questi sieri Come ho messo Quello della Garnier Idratante Celeste Prendevo l'altro Non so se ve lo ricordate Quello rosa 22 minuti e basta Quello rosa Non me lo Quello 20 euro Questo è lo stesso Ne costa 18 È della L'Oreal Ed è Age Perfect Renaissance Cellulare Siero Doro Alta Rigenerazione Luminosità Suprema Non è così È un troiaio Perché Non vi Illumina il viso O comunque Io non ci ho fatto caso Perché Comunque Non avendo la pelle brutta Ultimamente Non comunque Grigia Io devo dire Che mi sono trovata Ad avere il viso Normale È un siero Io usano mai Siero 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 Pagato Sui 20 30 euro Forse Insomma È Clinique Quindi L'ho pagato Tanto Dovrebbe essere Uno Sculpt Wear Serum Liftante E Rifirmissante Visage Du Colo Visage Du Colo 100% Fragrance Free Vabbè Anche questo Avrebbe dovuto Rigenerare la pelle Io non lo so Ribadisco Così è una questione Io sono abituata Ai sieri Però Io non ho trovato A differenza Con quello Sto usando Ora Vi ho fatto vedere Che è idratante Quello sì Idrata la pelle Tantissimo Voi sentite La pelle È straidratata Però io Con questi Grandi differenzi Probabilmente Ripetisco Perché Non ho una pelle Che sta troppo male Poi Allora Questo qui è Un eyeliner Maxi black Ok Cioè Alline sta russando Veramente Tantissimo Allora La punta Era questa Ed era quello Che avevo preso Su ebay Pagato una miseria Purtroppo Non l'ho neanche Usato Usato una miseria Perché Praticamente Ho provato ad usarlo Ma praticamente Si era già seccato È eccezionale Come pennellino All'interno Ci doveva essere La pallina Quindi io comunque Pensavo Che Reggesse Anche A non seccarsi Invece Questo non è stato Peccato Perché Credevo Fosse Un buon prodotto Allora Allora Questo è il famoso Effetto Della essence Eyeshadow Vi ricordate quelli Avevo fatto vedere Vediamo se metto a fuoco Ma non credo Ma si figurate E questo è giallo Perché l'ho buttato Perché si è seccato Completamente È stato lì Dentro al cassetto Non so per quanto tempo E qui su Qui dentro Ah Benissimo Il colore Se lo perde Da fondo Ah Guardate qua Ok Benissimo Allora Il prodotto è questo Vediamo se Riuscissi a Usarlo così Chi lo sa Vediamo un po' Perché come il prodotto Era stravalido Oh Perfetto L'ha svolta Guardate qua Cioè lo si può usare Oh my god Cioè lo si può usare Figliole Figliole si può usare Cazzo E io lo volevo buttare Allora Siccome è fatto a pezzettini Perché giustamente Si è seccato Tutto non sta In fare cosa Prendere questi pezzettini E spiattellarseli Nelle gote Vedete Eccolo qua Figata Paurosa Ma chi sono io Bene Quindi ho ritrovato L'utilizzo per questo Non buttiamo via niente Perché poi lo sapete A me tutto ciò che luce Illuminanti Tutta la vita Come se non ci fosse Ma un domani Allora Non sono rifinita Nel senso Basta Dove è avvertito Ok Allora Ho finito il mio video Mi sono fatta vedere Con i miei cornini Quindi finalmente Ce l'ho fatta fare Un altro Video di prodotti Finiti Cercherò di lasciarvi Tutti i vari Prodotti Iscritti Nell'info Box Io vi mando Un bacione gigante In mezzo Grandissimo Siete il mio più grande sostegno Alin e Pippo Che russano Vi salutano Ciao my love Pensavo di aver stoppato Invece niente Siete il mio più grande sostegno